andiamo in val di sole a presentarvi il nostro abaco village inverno la montagna più comoda che c'è facile invernale versione invernale non cambia molto trasporto hotel in questo caso tre stelle superior siamo nella valle di sole abbiamo diverse strutture per cui nel programma diamo più risalto al programma che all'hotel a differenza degli abaco village estivi tre stelle superior comunque è la categoria mezza pensione trasporto incluso hotel con area benessere per non farci mancare nulla quattro escursioni incluse assistente abaco viaggi ski pass incluso per tre giorni per il comprensorio di marileva e folgarida chi voi conosce i comprensori sciistici questo è un comprensorio che va bene sia per i principianti sia per chi ama buttarsi un po su sfide su piste belle toste una volta che si sale lassù c'è sembra la metropolitana di londra tutte le mafie capito via di qua di là di la via si può veramente sciare con soddisfazione ci sono convenzioni percorsi con maestri di sci quindi chi vuole recuperare sciare chi vuole sciare e reimparare riscoprire scoprire zero è un'ottima occasione questa ma soprattutto per prendere una bella aria buona bello a